Sono circa 40 persone, ma pesano sulle casse comunali, tristemente vuote, come un esercito. Sono gli aspiranti dipendenti del Comune di Torino che rimarranno fuori dalla porta e aspetteranno l'assunzione probabilmente non pochi mesi, visto che davanti c'è il 2012, l'annus orribilis per i comuni italiani. Forse si parla del 2013, ma non è neppure certo, dipenderà dai bilanci. In lista ci sono 20 amministrativi in graduatoria dopo l'ultimo concorso che avrebbero dovuto avere una scrivania già da tempo. Oltre a loro dovevano essere impiegati anche 20 nuovi bidelli. Altro settore a rischio è quello della Polizia Municipale. Il Comune ha puntato all'assunzione e all'esaurimento delle graduatorie dei contratti di formazione lavoro. Ora è difficile che possa essere rispettato questo impegno. L'ingresso degli amministrativi e dei bidelli faceva parte anche di un accordo firmato due mesi fa dai sindacati e dall'amministrazione in cambio del congelamento del pagamento dei contributi previdenziali per i vigili, intesa che è stata bocciata nel referendum fra i civici. Gli aspiranti dipendenti ora si stanno organizzando e hanno coinvolto il sindaco Fassino con una lettera aperta per chiedere il rispetto degli impegni presi da tempo. Signor Sindaco, sottolineano, le dice che dipende molto da come si guarda il bicchiere. Può essere mezzo pieno o mezzo vuoto. Punti di vista. Per noi che da mesi e mesi aspettiamo di essere assunti e che ora ci vediamo negata a questa possibilità, il bicchiere non può che essere mezzo vuoto.